...in manicomio, perché anche i preti non si sono comportati molto bene. Questo ritorno alla spiritualità della regione lo ha visto nell'ultima fase della sua vita, tant'è che insieme a Giovanni Mutti ha scritto un bellissimo poema, il poeta della croce, hanno fatto nel 2005 proprio dentro il Duomo questo evento in cui Giovanni Mutti suonava nella mia vita, citava le cosi e lei nasceva la parte della Madonna, di Maria, il momento più difficile per Maria, che è il momento della morte, con la bellissima figlia. Aveva i tre fratelli, insomma se aveva una sbaglia più,